Ben trovati. Qui alla Camera abbiamo celebrato l'entrata in vigore della Convenzione di Istanbul. Lo abbiamo fatto con una conferenza internazionale alla quale hanno partecipato ben 37 delegazioni di stati membri del Consiglio d'Europa e anche una decina di delegazioni tra cui Stati Uniti e i paesi della sponda sud del Mediterraneo. Vedete, la Convenzione di Istanbul non è un semplice trattato internazionale, è una pietra a miliare ed è di cruciale importanza perché per la prima volta la violenza sulle donne viene definita come violazione dei diritti umani fondamentali. Per noi italiani c'è anche un altro motivo d'orgoglio, la ratifica della Convenzione di Istanbul è stata il primo atto legislativo di questo Parlamento. E cosa significa questo? Significa che le donne parlamentari su certe questioni sanno stare unite, sanno lavorare insieme ottenendo risultati e dimostra anche che l'Italia sul tema dei diritti delle donne ha fatto, può fare da apripista a livello internazionale. Ora certo è necessario passare ai fatti, in tempi di crisi economica questo è un settore che richiede maggiori, non minori investimenti e su questo punto devo sollecitare il nostro Governo affinché agisca al più presto, perché è vero i fondi stanziati stanno cominciando ad essere erogati, ma occorre anche elaborare ed attuare il piano straordinario contro la violenza sessuale di genere, così come peraltro era stato annunciato lo scorso anno nelle norme sul femminicidio. Ecco, quello che va compreso è che la violenza contro le donne non è un fenomeno atavico che siamo condannati a sopportare, perché ineluttabile. È invece questo il prodotto di comportamenti deviati, presenti nelle nostre società, ma come tale va combattuto questo fenomeno, con l'azione di tutti, con l'azione di tutti può e deve essere sconfitto. Ovviamente nel corso della conferenza si è pensato anche a come coinvolgere i giovani, dunque il mondo della scuola, anche il mondo dell'università, per questo insieme alla delegazione italiana presso l'Assemblea parlamentare del Consiglio d'Europa abbiamo pensato, abbiamo anche deciso di lanciare un premio universitario, un premio per la migliore tesi di laurea su questo fenomeno. Anche così si dice no alla violenza contro le donne. Grazie dell'attenzione.